Il programma dei quarti Up Winston Salem, il programma dei quarti Quarti di finale, nella giornata odierna, a Winston Salem. Il padrone di casa Steve Johnson, reduce da tre eliminazioni al primo turno tra Washington, Montreal e Cincinnati, ma qui di nuovo in palla, affronta il qualificato England, fiore all'occhiello l'esordio col talento Medvedev. Il bosniaco Dzumur, a seguire, incrocia la racchetta con Schum. Partita interessante, Dzumur vive infatti un ottimo momento. Finalista al Challenger su terra di Santo Domingo il bosniaco, prima penultimo atto allo Skabos, KO con Sam Querrey. Schum, di contro, è giocatore dai colpi importanti, favorito, nel turno precedente, dal ritiro di Beneteu. Nel 2017, scontro a Miami, 76 Dzumur al terzo. Nella sessione serale, la prima testa di serie, Bautista Agut, al cospetto del prospetto Fritz. Due tee break per sopire l'indomabile Lorenzi, Fritz punta ora al colpo grosso. . . Bautista, dopo i successi con la Jovic e Bagdatis, appare il favorito per la vittoria finale, solido il tennista spagnolo. Infine, Bornaco Rick, fatale al colosso Isner, trova Struff. . . Un'affermazione, quella con Isner, che può galvanizzare il croato, ovviamente più performante su altre superfici, specie la terra. Nessun precedente tra i due. Nobile il percorso di Struff. Avvio con Gombos, poi cuevasi il nostro septi. . 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